Dolce e Gabbana hanno venduto la favolosa villa di Stromboli per 6 milioni di euro. L'ha acquistata un imprenditore italiano. Sembra che i due stilisti vogliano spostarsi sull'isola di Salina, dove avrebbero avviato una trattativa per acquistare un'altra casa da sogno. L'immobile venduto nasce dalla fusione di tre abitazioni tipiche delle olie ed era stato interamente ristrutturato seguendo il gusto dei due stilisti. La proprietà si estende su oltre 500 metri quadrati, di cui 235 di interni con ben sette eleganti e originali suite, ognuna di un colore diverso, e 300 metri quadrati di verde con piante mediterranee perfettamente inserite nel contesto. Dolce e Gabbana avevano acquistato la villa negli anni 90 e nel corso delle loro vacanze a Stromboli, dove arrivavano in elicottero oppure con lo yacht, avevano ospitato starri internazionali, amici con cui avevano voluto condividere la magia di una residenza a due passi dal mare. Tra gli ospiti d'eccezione anche Naomi Campbell, Tom Cruise e Madonna, ma la lista comprende altri nomi altisonanti ed è lunghissima.